Cari amici, oggi vi parlerò di una delle peggiori tragedie ambientali avvenute negli Stati Uniti. Mettetevi comodi. Sto per raccontarvi del quartiere tossico Love Canal, nella città di Niagara Falls. Le origini di questa tragedia risalgono al 1890, ma le devastanti conseguenze arrivano fino ai giorni nostri. Ma facciamo un passo indietro e iniziamo dal principio. Anno 1890. William T. Love era un ambizioso imprenditore che aveva il sogno di creare una comunità industriale all'avanguardia. che sarebbe stata da modello per il resto del paese. Progettò una città perfetta e funzionale, nella quale tutte le case e le industrie sarebbero state equipaggiate con servizi elettrici, telefonici, gas, acqua corrente e fognature. È inutile dirvi che a quell'epoca cose del genere erano tutt'altro che scontate nelle case americane. Vi ricordo che stiamo parlando del 1890. A questo utopico sogno diede il nome di Model City, che tradotto in italiano significa città-modello. Per far funzionare una città del genere avrebbe avuto bisogno di una grande quantità di energia elettrica. Scelse la zona del Daniel Guerra perché si prestava alla perfezione al progetto di un grande canale, che avrebbe prelevato l'acqua a Monte delle Cascate, facendola viaggiare per circa 11 chilometri fino oltre l'altopiano di Lewinstone. Lì ci sarebbe stato un salto idrologico con annessa centrale elettrica. Love aveva pubblicizzato molto bene il suo progetto e suscitò l'interesse di molti sponsor. Investitori statunitensi e britannici videro la possibilità di arricchirsi e furono molto interessati a un progetto così importante e di grande impatto sociale. Molte aziende avevano espresso interesse nell'apertura di stabilimenti lungo il Love Canal, proprio con la prospettiva di sfruttare l'energia elettrica promessa da Love. Ma la fortuna non era dalla sua parte. Nel 1893 tutti i settori industriali degli Stati Uniti vennero colpiti da una grande depressione economica, definita storicamente come Grande Panico del 1893, che per la sfortuna di Love durò fino al 1897. Nonostante le difficoltà, nel maggio del 1894 iniziarono i lavori di scavo del canale. In questa foto si può vedere William T. Love attorniato da investitori e politici del tempo alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, mentre solleva simbolicamente la prima spalata di terra. Purtroppo per Love negli investitori cresceva la preoccupazione per il persistente impatto economico del Grande Panico. E, oltre a questo, si aggiunsero delle forti speculazioni sui prezzi dei terreni, che da 50 dollari per acro passarono a 200 dollari, 500 dollari e persino 1000 dollari per acro. Il risultato finale fu che gli investitori si ritirarono dal progetto. Love si indebitò finendo in mancarotta e i creditori gli fecero visita, confiscandogli tutto quanto. Nel 1896 i lavori del Grande Sogno di William T. Love vengono interrotti. In pratica, venne realizzato solo un piccolo tratto del canale nella zona di La Salle, a Monte delle Cascate. Uno sbancamento di circa 1,6 chilometri di lunghezza, largo una ventina di metri e profondo dai 3 ai 12 metri. La Niagara Power & Development Company, che era la proprietaria ufficiale del canale, attraverso un differente team di investitori, cercò di completare l'opera di scavo, ma nulla di definitivo ha mai preso forma. Inoltre, nel 1906 il Congresso degli Stati Uniti approvò la legge Barton, che impediva il prelievo dell'acqua dal fiume Niagara con lo scopo di preservare le famose cascate, impedendo di fatto qualsiasi opera futura. Col cessare dei lavori il canale si riempì d'acqua e divenne in seguito, per i pochi abitanti dell'area, un luogo dedicato allo svago. Secondo una mappa di La Salle del 1908, il canale veniva utilizzato dalla Niagara County Irrigation & Water Supply Company come bacino idrico per approvvigionare d'acqua gli agricoltori della zona. Le prime criticità si verificarono nel 1920, quando la città ha iniziato a usare il canale come discarica per i rifiuti urbani. Ma il vero disastro avvenne a partire dall'anno 1942. La Hooker Electrochemical Company era un'azienda chimica di Niagara Falls che cercava un sito per smaltire grandi quantità di rifiuti chimici industriali. Per loro fortuna, la Niagara Power & Development Company diede loro il permesso di utilizzare l'area dell'off canal. Il canale fu prosciugato, rivestito da uno strato di terra argillosa, per rendere impermeabile il fondo e le sponde. Fu così che la Hooker iniziò a scaricare fusti metallici, da 210 litri ciascuno, di rifiuti industriali altamente tossici fino a una profondità compresa tra i 6 e i 7 metri. Nel 1947 la Hooker Electrochemical Company acquistò il canale e 21 metri di sponda su entrambi i lati, corrispondenti a 16 acri di terreno, ovvero 65.000 metri quadrati, più o meno come 9 campi da calcio. La Hooker utilizzò il canale come discarica sino al 1952. In totale fu scaricato nella zona l'esorbitante quantitativo di quasi 20.000 tonnellate di rifiuti tossici, provenienti dalla produzione di coloranti, profumi, solventi e resine sintetiche. Si parla di rifiuti che hanno generato almeno 200 composti chimici, tra cui benzene, cloroformio, toluene, diossina, eccetera, eccetera, eccetera. Per mettere in sicurezza la discarica, la Hooker decise di coprirla di terra con uno strato di argilla e ceneri come coperchio per impedire le infiltrazioni d'acqua. Al momento della chiusura della discarica, le cascate del Niagara e la città di Niagara Falls stavano vivendo un momento di grande prosperità e la popolazione stava crescendo notevolmente. Con la popolazione in crescita, il consiglio scolastico distrettuale della città aveva bisogno di terreno per costruire nuove scuole e nel marzo del 52 si interessò all'acquisto del terreno di proprietà della Hooker. Sì, avete capito bene, esattamente quello della discarica, proprio in Love Canal. La Hooker Electrochemical Company accettò di vendere la sua proprietà al consiglio scolastico, ma impose dei vincoli contrattuali sull'utilizzo del terreno. In sostanza, la Hooker voleva che sulla zona venisse costruito un parco e che la scuola non venisse costruita sul suolo del Love Canal, ma nelle vicinanze. Purtroppo, il consiglio scolastico respinse categoricamente la proposta. Con un documento di vendita affermato il 28 aprile del 1953, la Hooker Electrochemical Company cedette ugualmente il sito per la simbolica cifra di un dollaro, includendo un avvertimento di 17 righe che pretendeva di liberare la società da qualsiasi obbligo legale futuro. Nonostante la dichiarata presenza di rifiuti chimici nel sottosuolo, il distretto scolastico iniziò a costruire la scuola della 99esima strada, esattamente sopra la discarica. Nel gennaio 1954, durante gli scavi per le fondamenta, l'architetto incaricato della costruzione della scuola avvisò il consiglio del distretto scolastico che gli operai trovarono due aree dove affioravano fusti di rifiuti chimici. Evidenziò il fatto che le fondamenta potevano essere danneggiate dall'eventuale esposizione ad adessivi chimici. Per tutela, il consiglio si limitò a spostare le fondamenta della scuola 20 metri più a nord, in una zona ritenuta più sicura. La scuola fu terminata nel 1955, come se non bastasse, il consiglio scolastico vendette la rimanente porzione del terreno di Love Canal a costruttori privati che iniziarono a lavorare per la costruzione di un nuovo quartiere intorno alla scuola. Durante una riunione presso il consiglio scolastico distrettuale, la Ucker mise in chiaro che il terreno non era idoneo alla costruzione di opere edili che avrebbero avuto bisogno di strutture sotterranee come fondamenta, fogne e acquedotti. La ragione era che queste opere avrebbero minato l'integrità del sarcofago d'argilla che proteggeva i fusti di rifiuti chimici. La Ucker non poteva intromettersi e impedire al consiglio scolastico distrettuale di fare ciò che voleva con il proprio terreno. Tuttavia, sconsigliò vivamente di costruirvi un quartiere. Nel 1957 la città di Niagara Falls costruì fogne e acquedotti per un misto di residenze unifamiliari e residenze a basso reddito da eriggere sui terreni adiacenti alla discarica. Durante la posa delle fognature e delle linee idriche le squadre di costruzione sfondarono in più punti il sarcofago di argilla violando le pareti del canale. Venne rimossa parte del cappuccio protettivo in argilla per recuperare terra da riempimento da utilizzare per la vicina scuola della novantatresima strada ad appena sei isolati di distanza costruita due anni prima. Inoltre, nella zona sud il canale venne devastato innalzando il terrapieno che diventò la base della superstrada la Salle Expressway. Se il danno poteva essere limitato solo all'area che era stata di proprietà della Ucker grazie a tutte queste opere il percolato tossico dell'Ovkanal poteva migare anche nelle zone adiacenti e inquinare altri quartieri. Le prime avvisaglie si ebbero nei mesi iniziali del 62 caratterizzati da forti piovaschi. L'area dell'Ovkanal si allagò e i residenti testimoniarono la presenza di risalite di olio e liquidi colorati nei cortili delle case e negli scantinati. Negli anni 70 l'area di L'Ovkanal era ormai una comunità suburbana consolidata. In totale sono state costruite 800 case unifamiliari e 240 appartamenti a basso reddito per lo più abitate da giovani famiglie con figli o in dolce attesa. Nessuno sapeva di vivere sopra una discarica di rifiuti tossici. Nel 1976 precipitazioni superiori alla media causarono l'inalzamento della falda freatica trasportando le sostanze chimiche rapidamente in grandi quantità in ogni direzione. Le sostanze chimiche penetrarono negli scantinati delle case formando pozzanghere nocive risalirono attraverso i cortili compreso quello della scuola locale. A questo punto i residenti del Love Canal iniziarono a preoccuparsi e a lamentarsi con le autorità preposte per la presenza di odori e strane sostanze nelle loro proprietà e nei luoghi pubblici. Alla fine la città incaricò un consulente specializzato in analisi chimiche per eseguire uno studio di vasta portata in tutta la zona del Love Canal. Il verdetto finale era preoccupante. Valori altissimi di composti chimici pericolosi furono trovati nelle acque e nell'aria di tutta la zona analizzata ma in modo del tutto superficiale la municipalità consigliò solamente di installare ventole nei semi interratti per estrarre l'aria viziata. Nello stesso anno due giornalisti della Gazzetta Cittadina pubblicarono rapporti sulle infiltrazioni chimiche e la conseguente pericolosità per la salute degli abitanti dell'Hove Canal. Per circa un anno tutto rimase in stallo fino a quando il reporter Michael Brown effettuando un'inchiesta porta a porta riscontrò numerose malformazioni nei bambini nati nell'area. Egli consigliò ai residenti di organizzarsi in un comitato di protesta che fu guidato inizialmente da Karen Schroeder abitante della 99esima strada una donna la cui figlia era portatrice di numerose malformazioni dalla nascita. Nel 1978 Love Canal era diventato un evento mediatico nazionale. Nel maggio del 78 l'Agenzia per la protezione dell'ambiente EPA prelevò campioni d'aria dal primo anello di case intorno alla discarica e scoprì che i fumi tossici presenti negli scantinati delle case potevano rappresentare un serio rischio per la salute pubblica. Furono analizzate anche le case del secondo anello e risultò che il 55% non aveva tacce di sostanze chimiche mentre le restanti mostravano piccole quantità quindi furono considerate sicure. A giugno iniziarono a prelevare campioni di sangue dai residenti per i test sulla salute e a luglio il governatore di New York Hugh Carey concesse poteri di emergenza al commissario Robert Wallen stanziando 500.000 dollari per condurre uno studio sanitario a lungo termine sui residenti di Love Canal nel frattempo l'EPA prelevò altri campioni dalle case e dai terreni si scoprì che le sostanze chimiche stavano iniziando a migrare infatti vennero trovate grandi quantità di composti chimici a diversi isolati di distanza dalla discarica in pratica il problema non era più confinato alle case costruite su Love Canal ma si era diramato agli isolati adiacenti il 2 agosto del 1978 il sito della discarica fu dichiarato un'emergenza nazionale la scuola sulla 99esima strada fu chiusa e il commissario Wallen raccomandò di evacuare tutte le donne incinte e i bambini di età inferiore ai due anni che risiedevano nei primi due anelli di case il 7 agosto il governatore di New York Hugh Carey annunciò che il governo statale avrebbe acquistato tutte le case all'interno degli anelli 1 e 2 e lo stesso giorno il presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter annunciò lo stato di emergenza e chiese lo stanziamento di fondi federali comunque entro la fine di agosto un totale di 239 famiglie furono evacuate e ricollocate tra cui la famiglia di Karen Schroeder nell'ottobre del 1978 venne innalzata una recinzione intorno all'area del Love Canal e si iniziò a installare un sistema di drenaggio per evitare la fuoriuscita di agenti chimici dal canale i residenti delle zone esterne ormai sapevano che il percolato tossico si era esteso al di fuori dei confini dei lavori l'indifferenza delle autorità nei loro confronti innalzò la rabbia dei cittadini che organizzarono un comitato di protesta il cui leader era una giovane madre residente in una delle aree esterne al Love Canal il suo nome Eloise Gibbs la Gibbs diede inizio a un intenso periodo di attivismo per i residenti di Love Canal e la sua perseveranza portò i frutti sperati il 21 maggio del 1979 il presidente Carter dichiarò una seconda emergenza nazionale stanziando fondi per il trasferimento di altre 728 famiglie solamente 76 famiglie decisero di rimanere nella zona il governo prese la decisione di demolire 227 case adiacenti al Love Canal nel 1982 il livello di diossina presente nell'area del canale era 100.000 volte più elevato rispetto ai livelli tossici sopportati a causa della retroattività delle leggi federali che regolano i fondi elargiti la Occidental Chemical Corporation la società che acquistò la Hooker Company tra il 1994 e il 1995 venne citata in giudizio e obbligata a pagare 200 milioni di dollari per coprire le spese statali oggi l'Hoff Canal è una zona controllata e recintata con più di 150 pozzi di monitoraggio 24 ore su 24 alcune zone limitrofe al Love Canal sono oggi ritenute idonee all'uomo nella parte nord sono state costruite nuove case e alcuni piccoli siti lavorativi ad est ancora oggi alcune persone però lamentano problemi di salute gravidanze interrotte e bambini con problemi dalla nascita questa tragedia finirà mai?